L'Unitalsi per la decima volta scende nelle piazze per comunicare a tutti i credenti, ma a tutte le persone di buona volontà, ma a tante persone che per un'offerta che daranno nella giornata dell'associazione, questa piantina servirà per i progetti. L'Unitalsi prepara i peregrinaggi, è un cammino di spiritualità per Lord, Terra Santa, Lorito. Questi bambini che vengono ricoverati negli ospedali non hanno la possibilità di alloggiare negli alberghi, l'Unitalsi ha pensato ai genitori di alloggiarli nelle loro case. L'Unitalsi ha pensato anche per i nostri amici disabili di fare la casa vacanza. Il quinto, il servizio civile, il servizio civile che ci dà la possibilità di assistere 24 ore su 24 ore i nostri amici disabili che non hanno parenti, non hanno nessuno. Il cuore di latte, nel sud Africa, l'Unitalsi ha progettato un ospedale grazie alla generosità di tanti migliaia di italiani che hanno dato il consenso di allestire una sala operatoria, un piccolo ospedale, ma due scuole.